Vieni in palestra ti fai testosterone, dega duraborin e tremolone Poi che cosa fai? Il testosterone ti fa diventare un animale Quindi che cosa fai? Prima di andare allo stadio dai una botta di cocaina Ti bevi tre ceres, arrivi allo stadio che sei un cane Tipo sai i cani quelli da Malesia?